Buonasera, cercheremo di parlare in questa lezione di Alessandro Magno e della costituzione dell'impero universale, o quantomeno del sogno della costruzione di un impero universale e cercheremo di seguire il percorso del grande condottiero macedone attraverso questa carta attorno alla quale io ho indicato dieci principali tappe attraverso le quali spero di riuscire a chiarire sufficientemente bene come andarono le cose. Dunque partiamo dall'inizio, ovvero dal punto 1, che è la parte della successione. Nell'ultima lezione ci eravamo fermati esattamente alla morte di Filippo il Macedone, morte inaspettata, che avviene esattamente nel 336 a.C. ed è esattamente a quest'anno qua che risale la necessità della successione a Filippo, successione che non è semplicissima per Alessandro Magno, è abbastanza difficile. Ed è abbastanza difficile per una serie di motivi. Alcuni dei motivi sono legati alla Grecia, quindi alla situazione di sofferenza della Grecia nei confronti di Filippo stesso, altri motivi sono motivi interni. Vediamo che cosa accade. Come prima cosa possiamo dire che Alessandro Magno fa un po' di pulito attorno a sé, uccidendo in modo abbastanza sanguinario tutti quelli che erano gli eventuali aspiranti al trono, compresa la successiva moglie di Filippo II che viene indotta al suicidio. quindi come prima cosa risolve i problemi interni. Fortunatamente lui ottiene l'appoggio di alcuni generali, di alcuni grandi generali del padre che lo sostengono e che lo sosterranno lungo tutte le sue campagne. Possiamo indicare almeno alcuni nomi. Uno è il celeberrimo Parmenione e poi possiamo citare sicuramente Clito il Nero che peraltro era figlio dell'unitrice di Alessandro Magno. Oltre a questa cosa qui c'era un problema, un altro problema da risolvere perché le zone a nord della Macedonia, quindi come sempre l'Illirico, i Bulgari, i Geti e tutte queste popolazioni che si stendevano lungo il nord della frontiera della Macedonia entrano in subuglio. Quindi quello che è necessario fare è sistemare la frontiera del nord che deve essere pacificata. Ultima cosa che deve essere fatta da Alessandro Magno prima di partire, o meglio di portare avanti quello che era stato l'intento del padre, è risolvere il problema della Grecia. Già perché la Grecia, udito della morte del padre, quindi di Filippo II, ovviamente non era rimasta ferma ma aveva tentato una sorta di ribellione, cioè aveva tentato di riprendersi la libertà che aveva percepito come usurpata da parte del sovrano Macedone. Ed è esattamente in questo clima qui e in questa situazione qui che si inserisce il fatto tragico della distruzione di Tebe. Distruzione di Tebe che viene portata come esempio da Alessandro di quello che sarebbe capitato a tutte le città greche nel caso in cui si fossero ribellate. Di conseguenza Tebe viene assediata in un paio di settimane e viene praticamente rasa totalmente al suolo. Fatta eccezione per i templi, che ovviamente essendo cosa sacra non vengono toccate, fatta eccezione, cosa particolare, per la casa di Pindaro, un poeta, un poeta della lirica corale greca che viene risparmiata in onore della grande memoria del grande poeta appunto e questo magari sarà argomento da affrontare quando approfondiremo la figura di Alessandro Magno. Comunque, fatto questo e sistemate quindi le situazioni sul fronte interno, quindi pacificata esattamente la zona della Grecia, Alessandro può partire e decide di partire ovviamente via terra e parte, era accompagnato anche da una flotta, ma insomma questo è abbastanza secondario per il livello a cui lo affronteremo noi, decide di partire passando attraverso la Troade. Questa cosa qui ha un duplice significato, ha soprattutto un significato di carattere culturale, perché è esattamente attraverso questa zona qui che nel 334, lui passando rende onore ad un grande eroe che è l'eroe di Achille, quindi lui si ferma a fare dei sacrifici sulla supposta tomba di Achille e questa cosa qui è abbastanza importante perché è un gesto simbolico, un gesto simbolico che vuole creare almeno due punti nella vita di Alessandro Magno, una è la ripresa del concetto del mito, perché una delle figure che saranno sempre presenti nella vita di Alessandro è la figura di Achille, l'altra sarà quella di Eracle. Dall'altra parte però rendere omaggio all'eroe Achille significa anche porsi nell'ottica dell'essere vendicatore dei greci, quindi lui si pone come condottiero greco, quindi scriviamocelo, vendicatore dei greci, era ciò che Filippo aveva dato a credere ai greci di voler essere e Alessandro Magno riprende esattamente da lì e quindi insomma fa questa puntata sulla tomba di Achille e poi comincia effettivamente quello che è il grande viaggio, il grande e sognato viaggio di questo giovanissimo uomo che lo porta all'entrata in Asia. L'entrata in Asia era segnato da sempre dal passaggio, ora se provaste a guardare una carta geografica più dettagliata ve ne rendereste conto, dal passaggio attraverso il granico, granico l'accentazione greca, granico quella la latina, che rappresentava proprio una sorta di porta verso l'Asia. Ora esattamente granico è la prima delle battaglie, è l'entrata in Asia, è una battaglia che viene persa dai persiani perché decidono di attaccare Alessandro Magno, mentre il consiglio di un altro condottiero che era lì e che era greco era quello di applicare la tecnica della terra bruciata. I sovrani persiani, in primis Dario III che in quel momento era al comando, non volle e quindi la battaglia andò ovviamente persa. Perché viene persa? Viene persa perché militarmente l'assetto della falange macedone e l'uso sapientissimo della cavalleria dà una vittoria praticamente incontrovertibile ad Alessandro Magno. E quindi ecco con questa battaglia del 334 a.C. lui riesce ad ottenere di fatto il controllo di tutte le città greche della costa, delle città della costa dell'Asia minore. Ecco, praticamente questa parte qui. Bene, e vedete infatti seguendo questa linea rossa, rosso scura, dove stiamo andando. E possiamo anche chiederci quale sia il senso di questa direzione. Ora se voi provate a guardare in modo generale quello che è il percorso, ci accorgeremo dopo, anche da quello che verrà detto, come la prima volontà di Alessandro sia proprio quella di estromettere dal fronte marittimo tutta la Persia. Cioè sarebbe stato proprio quello di evitare la possibilità che la Persia avesse uno sbocco sul mare. E quindi vediamo che cosa succede adesso. Sospendiamo un attimo l'attenzione alle battaglie per soffermarci su un episodio, che però è un episodio importante dal punto di vista della creazione del mito di Alessandro Magno. Ed è l'episodio di Gordio, che vedete esattamente qui. Ora, c'era una leggenda, che era una leggenda relativa alla zona della Frigia, secondo la quale l'oracolo di Telmisso, aveva detto che il primo uomo che fosse entrato nella città di Telmisso a bordo di un carro a cui fossero giocati dei buoi sarebbe diventato il re stesso di quella zona. Ed il primo ad entrare fu un certo Gordio, secondo la leggenda contadino poverissimo, il quale però divenne re. Il figlio adottivo di questo Gordio, che altri non era che il re Mida, celeberrimo mitologico, quello che trasformava tutto ciò che toccava in oro, cosa fece? Prese il carro di questo suo padre adottivo e lo legò saldamente ad un palo come monito perenne del potere dei re. Ora, l'oracolo diceva che chi fosse riuscito a sciogliere questo nodo di Gordio sarebbe in qualche modo diventato padrone dell'Asia. Quando Alessandro arriva presso questa cittadina, che poi percorre lungo la via Regia, quella famosa che attraversava tutta la Persia, fermatosi, decide di ascoltare questa leggenda e di tagliare il nodo di Gordio. Ora, non si sa se l'abbia tagliato con la spada, non si sa se abbia sfilato la staffa che legava il nodo al carro stesso, fatto sta che taglia, cioè il taglio del cosiddetto nodo di Gordio. Ce lo scriviamo qua, questo nodo di Gordio. E questa cosa qui, che tutto sommato, diciamo, dal punto di vista militare è una cosa che ci interessa presso che nulla, in realtà ci interessa dal punto di vista della costituzione del mito di Alessandro Magno e del cambiamento di ottica che lui sta vivendo, perché secondo gli storici sarebbe propriamente questo il momento in cui Alessandro accoglie quella che è l'eredità, non solo diciamo mitologica, ma un'eredità proprio storica dell'Asia. Ed è quindi probabilmente il primo momento in cui lui si distacca dalla visione del vendicatore dei greci e comincia ad entrare e comincia a prendere su di sé anche questa aura di asiaticità e di storia persiana che comincia ad avvolgerlo. Vediamo appunto allora che cosa succede e che cosa segue a questa cosa. Ovviamente si va verso sud ancora e andiamo ad Isso nel 333 con il nostro quinto punto. Bene, Isso è una delle battaglie più importanti di tutte. Perché è importante? È che effettivamente troviamo in campo Dario III, il quale viene sconfitto, si dà alla fuga e però lascia sul campo la famiglia, perché la famiglia di Dario III in questa occasione qui viene catturata. Questa è una battaglia importantissima e celeberrima perché di fatto è la battaglia direi che in qualche modo sigla quella che mette la firma definitiva su quelle che sarebbero stati poi le sorti di Dario III, le sorti di Alessandro Magno e le sorti dell'impero persiano. Vinta questa battaglia, che è appunto la battaglia di Isso, Alessandro in tutta logica, cioè seguendo una logica del tutto razionale, decide di scendere verso sud, passando attraverso la zona della Fenicia, della Siria e giungendo fino in Egitto. Questo non è un giro casuale, non deve essere sentita come una volontà di scendere ad esplorare, ma ricordiamoci che appunto le zone che erano controllate dall'impero persiano si estendevano effettivamente attraverso la Fenicia e attraverso la Siria, fino a giungere all'Egitto. Ora, in Fenicia abbiamo un assedio famosissimo, che è l'assedio di Tiro. Tiro è una costituzione peninsulare, per cui ci impiegò sette mesi a sottometterla, cosa abbastanza particolare a fronte della rapidità con la quale invece attraversò tutto il resto. Passò attraverso la Siria ed arrivò in Egitto. Ora, in Egitto ci sono altri due episodi abbastanza famosi da ricordare. Innanzitutto abbiamo la fondazione della grandissima città di Alessandria, fondazione di Alessandria, Alessandria d'Egitto. Alessandria sarà la prima di una serie di città che porteranno il nome di Alessandro, cosa che diventerà poi una tecnica anche di alcuni grandi sovrani romani, che basti pensare a Costantinopoli o altre cose del genere. Ma questo non basta, perché l'altra cosa che fece fu il fatto di andare a consultare l'oracolo di Ammone. Ora, l'oracolo di Ammone ci riporta un Alessandro ancora una volta incline al fatto religioso, ed incline al fatto religioso al di là del fatto che la religione sia la sua, cioè la religione greca. Bene, l'oracolo di Ammone gli dice, parla di Alessandro come di Paidios, cioè di figlio di Dio. E secondo alcuni questo non avrebbe fatto altro che rafforzare quello che gli era stato detto da Olimpiade stessa, cioè la madre, ricordiamo, che gli aveva fatto notare che lui non sarebbe stato figlio di Filippo II, ma sarebbe stato figlio di Zeus. A questa cosa qui è collegata anche il culto di Eracle. Ricordiamo appunto che Eracle era l'eroe figlio di Zeus e di Elkmena e sarebbe stato legato alla famiglia di Olimpiade, cioè la famiglia di Olimpiade vantava una discendenza per parte di Eracle. Quindi in qualche modo si sta creando un'idea e questa idea che Alessandro sta creando è l'idea di una creazione di un tipo di sovrano nuovo, quantomeno un tipo di sovrano nuovo per quella che è la concezione greca, perché è un sovrano che possiamo definire come un sovrano assoluto, di tipo orientale. E questa è una cosa fondamentale perché è una cosa che Alessandro pagherà lungo la sua storia e che diventerà e che gli darà sempre più problemi, come vedremo appunto lungo lo svolgimento della sua storia, insomma di quello che è il suo percorso. Ora noi come possiamo vedere arrivato in Egitto, ritorna verso il nord e andiamo a trovarci, a fermarci al punto numero 7 che è questa battaglia che possiamo vedere qua, che è una battaglia del 331 avanti Cristo che è la famosissima battaglia di Gaugamela. Ora, la battaglia di Gaugamela dal punto di vista proprio tecnico gli regala la Mesopotamia, quindi territorio molto vasto, territorio solitamente appunto sottomesso ai persiani che si arrende praticamente ad Alessandro senza colpo ferire, subito dopo la battaglia. In questa battaglia qui vengono successivamente prese, come si può vedere anche dalla carta geografica, la città di Babilonia e la città di Susa e la città di Persepoli, quindi vanno viste come una solita di unico respiro dalla battaglia di Gaugamela in poi. E questa è anche la battaglia che in qualche modo segna la fine di Dario III e ce lo dobbiamo scrivere perché è importantissimo. Allora, Dario III riesce ancora a fuggire ma viene inseguito e viene preso da un satrapo, che è il satrapo Besso. Questo Besso riesce ad acciuffare in qualche modo Dario III, lo uccide e si autoproclama re di tutta l'Asia con il nome di Artaserse V. Ora, questa situazione qui che si crea, quindi questa situazione per cui il re Achemenide ufficiale, in realtà era un Achemenide anche Besso, ma insomma era una famiglia abbastanza vasta con vari rami, quindi Dario III viene ucciso e in qualche modo Besso si pone come suo continuatore. Ora, se avete capito come Alessandro sta impostando la sua politica, noi capiamo anche una cosa, cioè che questo Besso in qualche modo appare a questo punto agli occhi di Alessandro come una sorta di usurpatore. Usurpatore di che cosa? Usurpatore del trono che sarebbe dovuto essere il suo. E quindi ci sono una serie di conseguenze rispetto a questa situazione qui che in primo luogo danno adito alla necessità di inseguire questo Besso, inseguirlo ovunque lui vorrà scappare ed in particolare questo nostro signor Besso cercherà di ritornare in Batriana. La Batriana è esattamente qui e darà la satrapia di sua competenza. Quindi comincia veramente una zona di inseguimento. D'altra parte, allora scriviamoci, come prima cosa c'è la necessità di un inseguimento. Come seconda cosa nasce la necessità di arrivare ai confini est, quindi di porgersi fino alla fine del confine, quello che partiva, poi che passava lungo l'Indo, d'accordo, per l'esercito, scusate, per l'impero persiano. Dall'altra parte nasce anche un'idea di ideologizzazione, un'ideologia, un'ideologia di un Alessandro che vuole sempre di più diventare un re d'Asia in qualche modo e di diventare un re persiano. E qua ce lo scriviamo, lui diventa un successore di un re persiano. Ed inoltre ha una quinta conseguenza molto importante, cioè questo è l'inizio sostanzialmente di una opposizione interna. Un'opposizione interna perché motivo? Un'opposizione interna perché di fatto l'elemento macedone e l'elemento greco vive veramente male. Questa situazione per cui colui che sarebbe dovuto essere il venticatore dei greci in realtà sempre di più sta manifestando una volontà di farsi percepire come re divino e la volontà di essere il successore sul trono di Persia. Di fatto però Alessandro Magno riesce ancora a gestire il proprio esercito, i propri sottoposti e via dicendo e quindi si porta all'inseguimento di Besso. L'inseguimento di Besso arriva proprio nella zona della Batriana che è questa, praticamente è la zona dell'attuale Afghanistan più o meno. C'è un matrimonio che è il matrimonio con Rossane. Questa donna era una principessa, era la figlia del re della Batriana da cui Alessandro avrà pure un figlio che sarà il suo legittimo erede, peraltro verrà ucciso dopo nella successione. Ed è questa anche una zona nella quale cominciano a nascere le prime tensioni con i suoi sottoposti, in particolare delle tensioni gravi che portano alla morte di Parmenione, il quale viene ucciso per ordine di Alessandro e viene ucciso perché il figlio di Parmenione mostrava insofferenze abbastanza gravi ed era stato accusato di altro tradimento in qualche modo e quindi viene ucciso figlio e viene ucciso padre e d'altra parte ne fa anche le spese Clitol Nero, quindi c'è non solo la morte di Parmenione ma anche c'è la morte di Clitol Nero. Raccontano gli storici, torneremo su magari con calma su quali siano gli storici che parlano di Alessandro con più dovizie dei particolari che insomma Clito fece un paragone tra Alessandro ed il padre a favore del padre, quindi facendo notare una probabile maggiore grandezza di Filippo. Alessandro mal digerì questa cosa e in una persona ucciso, insomma questo che era suo compagno d'avventura fin dall'inizio. Nel frattempo viene acciuffato Besso che viene accusato ovviamente di tradimento e viene ucciso e quindi a questo punto la zona sembra apparentemente pacificata. Alessandro continua con il suo spostamento verso l'Asia dei costumi, assume dei costumi asiatici ed impone tra le altre varie cose la famosa proskinesis. La proskinesis era il tipico saluto che i sovrani orientali pretendevano dai propri sudditi ed era un saluto che aveva tra le altre varie cose il fatto di dover baciare la mano, insomma i piedi del sovrano, di appoggiare la fronte per terra, quindi era una vera e propria genuflessione. Questa cosa viene assolutamente mal vista da tutti i greci che percepivano il re come un primo tra i pari, cioè un primus inter pares, ma assolutamente non come una persona dai tratti divini di fronte alla quale fosse necessario genuflettersi. Quindi la situazione si fa critica, cioè nonostante dal punto di vista militare l'Asia sia praticamente tutta sottomessa, tuttavia però all'interno dell'esercito, all'interno proprio della cerchia più stretta di Alessandro Magno ci sono delle gravissime tensioni. È in questa situazione qua comunque che si va avanti e si va avanti verso l'India, si va avanti verso l'India, esattamente arriviamo in questa zona qui dove abbiamo la famosa battaglia dell'Idaspe, battaglia dell'Idaspe che è contro il re Poro, che viene vinta ancora una volta ad Alessandro Magno e se vogliamo mettere un accento insomma su quelli che sono gli episodi celebri è anche la battaglia in cui muore Bucefalo. Bucefalo era il cavallo di Alessandro Magno che lo aveva accompagnato per una ventina d'anni perché gli era stato regalato dal padre stesso quando Alessandro era ragazzino. Era un cavallo che secondo gli storici, in particolare secondo Plutarco aveva un carattere molto difficile e solamente Alessandro era riuscito a domarlo capendo in realtà che le bizze che faceva l'animale erano dovute alla paura che aveva della sua stessa ombra. Ma insomma mito a parte questa battaglia è la battaglia in cui questo cavallo muore e viene fondata la città di Alessandria Bucefala appunto in onore del cavallo stesso. Finito questo c'è il pensiero del proseguire e questa è una cosa abbastanza interessante perché effettivamente c'è una discussione cioè c'è la discussione sul fatto del perché andare al di là dell'indo andiamo non andiamo al di là dell'indo. Noi sappiamo alla fine Alessandro non ci andò e non ci andò per un motivo abbastanza banale cioè l'esercito era stremato. I greci in particolare volevano ritornare in Grecia quindi ci fu una sorta di ammuttinamento all'interno dell'esercito. Ma la campagna in India in sé per sé non è una follia perché si trattava di un rafforzamento di confine secondo quelle che sono le teorie che vanno per la maggiore. Quindi non dobbiamo tanto pensare al fatto che Alessandro volesse andare oltre quindi in questa direzione qua quanto effettivamente che volesse rafforzare questa zona qui che era quella segnata appunto dall'indo perché l'idaspe altro non è che uno dei bracci dell'indo che poi confluiscono nel fiume stesso quindi siamo esattamente in quella zona alla fine della quale però appunto nonostante la vittoria probabilmente per un timore anche degli eserciti che si stavano raccogliendo in questa zona qui per fermare quella che poteva essere la potenziale avanzata si decide di tornare indietro. Si decide di tornare indietro quindi si arriva a vedere il mare, il mare arabico e poi nell'esercito turto decide di tornare indietro e decide di tornare indietro ritornando esattamente verso le due capitali cioè verso Susa e verso Babilonia. Il 324 avanti Cristo è un anno, è l'anno del rafforzamento interno. Perché è l'anno del rafforzamento interno? Innanzitutto Alessandro deve fare un po' di cose cioè deve sistemare il problema della corruzione quindi c'è una risistemazione un riequilibrio interno e un riequilibrio interno e c'è un tentativo di affermazione di quella che era la sua idea di impero cioè un impero cosmopolita dove i vari nuclei nazionali quindi in particolare dove l'elemento greco macedone e l'elemento persiano si fondessero tra di loro e questa cosa viene perseguita attraverso una serie di matrimoni quindi dei matrimoni combinati tra uomini greci e donne persiane e si arriva addirittura ad una quantità immensa di matrimoni di questo tipo si arriva a 10.000 di questi matrimoni cioè 10.000 soldati 10.000 sottoposti di Alessandro presero moglie persiana e questa sarà una delle cose che continueranno anche in epoca ellenistica e lui stesso sposò Statira che era una delle figlie di Dario III quindi per dare continuità a questa situazione le cose da fare sarebbero state altre in realtà vedremo anche come lui riesca a dare una moneta fatto sta che nel 323 avanti cristo preso da malattie Alessandro Magno muore non c'è niente da fare cioè lui probabilmente era già molato e nel 323 in seguito ad un accesso di febbre siamo il 13 di giugno del 323 avanti cristo muore secondo alcuni storici per motivi anche legati ad avvelenamento secondo altri invece esattamente e solo per questo motivo appena accennato fatto sta che proprio nel momento in cui sarebbe stata necessaria un'organizzazione cioè l'organizzazione dell'impero Alessandro viene meno e quello che seguirà sarà il periodo dei cosiddetti dialoghi cioè i successori che non faranno altro che spartirsi il regno lasciato dal grande condottiero volendo dunque riprendere le tappe fondamentali di della lezione che abbiamo fatto oggi possiamo così riassumerle innanzitutto la successione di Alessandro nel 336 a filippo secondo con la sistemazione dei problemi della politica interna ma anche della frontiera nord e quindi dell'illirico di tutta la parte della bulgaria e poi i problemi in grecia che culminano con la distruzione di tebe il passaggio nella troade che comincia a creare il mito di Alessandro Magno nel senso della figura di Achille da una parte quindi del condottiero invincibile dell'altra parte del vendicatore della grecia e poi subito dopo un episodio che sembra contraddire quanto appena adesso detto cioè il problema di Granico il controllo della città dell'Asia minore in questa battaglia che è la battaglia di entrata in Asia subito dopo seguita dall'episodio del nodo di Gordio che secondo appunto l'oracolo avrebbe dato avrebbe consegnato il potere di tutta l'Asia a chi fosse riuscito a tagliarlo successivamente abbiamo ricordato la battaglia di Isso nel 33 dove vediamo comparire appunto in prima persona la figura di Dario III che riesce a fuggire però effettivamente lascia nelle mani di Alessandro la propria famiglia e subito dopo la discesa verso sud di Alessandria ad occupare Finicia, Siria ed Egitto con la fondazione di Alessandria da una parte e dall'altra parte è il consulto dell'oracolo di Ammone che gli dice che sarebbe stato un sovrano che lui addirittura era figlio di Dio e quindi in questo modo si crea comincia a crearsi il tipo di sovrano che Alessandro vuole diventare ovvero un sovrano assoluto di tipo orientale. Proseguendo abbiamo visto come la battaglia successiva sia la battaglia celebre di Gaudamela che è quella che gli apre la via della Mesopotamia ed è anche quella che segna le sorti di Dario III perché messo in fuga dopo questa battaglia viene ucciso da un suo satrapo che è Besso e che si autoproclama Atta Serse V. Le necessità e le conseguenze di questa situazione sono molto gravi. Innanzitutto si dà la necessità dell'inseguimento di questo Besso, inseguimento che si sposta verso i confini dell'est, quindi verso i confini indiani, crea un'ideologia cioè crea l'ideologia del sovrano orientale che deve vendicare il proprio predecessore e fa vedere Alessandro come successore di un re persiano per la prima volta ed è anche il momento dell'inizio dell'opposizione interna. L'inseguimento di Besso si svolge sostanzialmente in Batriana ovvero abbiamo visto nella parte nord dell'Iran e nell'Afghanistan e vede anche Alessandro sposarsi con la figlia del re di Batriana che è Rossane da cui appunto avrà un figlio. È anche però il periodo delle grandi tensioni interne, tensioni che lo vedono arrivare fino alla morte di Parmenione da una parte e di Clitol Nero dall'altra che poi erano i due che lo avevano accompagnato sin dall'inizio e dall'altra dell'imposizione di un costume tipicamente persiano che è quello della proskinesis, cioè della prosternazione di Franti al sovrano. La campagna a questo punto non può che continuare verso l'India, deve continuare verso l'India. Al di là di tutto quello che si possa dire abbiamo detto che la campagna indiana che doveva spingersi verso la valle del Gange è una battaglia di rafforzamento di un confine perché i fiumi, cioè l'Indo che è in questa zona qui rappresenta il confine est dell'impero persiano. Incontriamo qui un altro re che è il re Polo che però viene sconfitto nella battaglia dell'Idaspe dove muore anche Bucefalo, nota insomma così di colore storica che è quello del cavallo, grande compagno di battaglie di Alessandro Magno. A questo punto c'è un ammutinamento dell'esercito, l'esercito non vuole più rimanere lì, non vuole più proseguire, vuole tornare indietro, ha paura la natura che sta al di là dell'Indo, una natura ostile e quindi si rientra. Siamo nel 324, si rientra nella zona dove lui aveva intenzione di mettere la sua capitale, quindi Drasusa e Babilonia ed è esattamente in questa zona qua che dicevamo lui porta avanti un tentativo di riforma generale, di riequilibrio portando avanti il concetto del cosmopolitismo da una parte e portando avanti una politica di matrimoni combinati dall'altra, direttamente 10.000 soldati si sposano in questo modo. Le cose sembrano funzionare in qualche modo discretamente ma ancora una volta come era una cosa di famiglia insomma. Nel 323 lo sorprende la morte, morte che viene, sopravviene in seguito ad una manciata di giorni di febbre altissima, febbre altissima che secondo alcuni storici sarebbe stata la conseguenza di una malaria, secondo altri sarebbe conseguenza di un avvelenamento, fatto sta che insomma le fonti storiche non ci fanno capire di preciso come sia andata. Alcuni storici moderni parlano addirittura di una pancreatite acuta ma di fatto non sappiamo perché sia morto Alessandro Magno, fatto sta che giovanissimo all'età di 33 anni muore senza praticamente eredi, meglio un erede c'è ma un erede molto giovane che verrà ucciso e quindi vedremo che il suo regno verrà spartito tra quelli che rimarranno. Rimane il grande sogno però della storia, quello della conquista di tutta l'Asia, rimane questa meteora, rimane il mito di Alessandro Magno che poi accompagnerà, lo accompagnerà ma la sua memoria sopravviverà ovviamente all'uomo fino a creare un vero e proprio mito, un eterno del pensiero fino ai giorni nostri.